In questi giorni stanno girando notizie di due esoneri da parte di due club di Serie A. Il primo è Alvini, è stata decisiva per lui l'ennesima sconfitta per 3-2 contro il Monza e il soffio esonorato dalla Cremonese. Incredibile poi, sembra vicinissimo l'accordo con Ballardini fino al 2024, quindi molto probabilmente vedremo lui sulla panchina della Cremonese. Un altro esonero clamoroso invece è quello di Davide Nicola, l'allenatore della Salernitana è stato esonerato dopo la sconfitta per 8-2 contro l'Atalanta e ci sono due possibili sostituti. Il primo è Iachini, anche se l'accordo con lui sembra molto lontano. Il secondo è Mazzari ragazzi, di cui si sta parlando tantissimo nelle ultime ore e sembra anche abbastanza vicino l'accordo. Che ne dite, voi sareste contenti di vedere Mazzari sulla panchina della Salernitana?